Con l'esibizione del coro degli afasici si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi la giornata nazionale contro l'ictus cerebrale. Giunta la diciannovesima edizione e organizzata a Trieste dall'associazione Alice FWG Onlus, nel gazebo allestito in piazza Cavana è stato possibile sottoporsi gratuitamente al test per conoscere quanto ciascuno possa essere a rischio ictus. Non solo i volontari dell'associazione hanno fornito a tutti gli interessati materiale informativo dedicato in primo luogo alla prevenzione. I fattori di rischio abbiamo quelli che sono modificabili come per esempio l'ipertensione arteriosa, il diabete, il colesterolo alto. Questi si possono modificare con la dieta oppure se non è sufficiente anche con un trattamento farmacologico. E poi abbiamo altri fattori di rischio come la sedentarietà, l'obesità, il fumo. Anche questi si possono correggere con modificazioni di quello che è lo stile di vita. Poiché si tratta di una patologia a tempo dipendente, la rapidità dell'intervento medico è fondamentale. E per questo motivo esiste nella clinica neurologica dell'ospitale di Catinara la Stroke Unit, cioè il centro emergenza ictus. Il trattamento in acuto per eccellenza è chiaramente la trombolisi, di cui noi come Alice parliamo, facciamo conoscere un po' alle persone. Questo intervento sappiamo che non può comunque essere fatto a tutti e che può essere fatto in pazienti selezionati e comunque entro le 4 ore e mezza dall'insorgenza dei sintomi. E il coro degli affasici che utilizza la musicoterapia per tentare un recupero funzionale del soggetto colpito da ictus rappresenta uno dei tre principali campi d'azione dell'associazione Alice FWG Onlus. C'è la terapia occupazionale e cerchiamo di far sì che le persone colpite agli arti superiori riescano a rendersi in qualche maniera autonomi. Poi facciamo molte attività di prevenzione, andiamo nelle scuole, andiamo nelle case di riposo, facciamo molte conferenze e cerchiamo di fare tutte le attività possibili relative alla prevenzione.